Siamo a White, allo spazio Selection by Class, questa piattaforma unica a livello internazionale che si occupa di raggruppare, di comunicare, di promuovere uno stile di vita che deve essere pieno di emozioni, pieno di creatività, innovativo ma anche a basso impatto ambientale. Alle mie spalle vedete l'eco-library, questa raccolta di tessuti che vengono da tutto il mondo ma soprattutto italiano che racchiude materiali naturali, organici, riciclati e derivati da risorse rinnovabili che si sono poi tramutati in 17 espressioni di creatività di stilisti che arrivano dall'Italia ma anche da Danimarca e dal Giappone che si sono presentati anche qui per la prima volta. Ospite d'eccezione per questa stagione, siamo veramente onorati, abbiamo il Giappone, che è intervenuta in due forme, la prima da parte di questo maestro del colore Ishikawa che lavora da una vita per applicare il colore nella sua accezione vegetale e naturale derivata dallo studio delle piante, dei minerali, dei fiori e poi con Kelland che ha abbinato questi lini incredibili con dei colori fantastici sempre grazie a questa collaborazione con Siontech. Siamo molto tra l'altro contenti e soddisfatti dell'offerta che abbiamo avuto per questa stagione perché andiamo a toccare tutta una serie di stili di vita da quello diciamo più preta porté a quelle che sono gli accessori. Abbiamo veramente una grande ampiezza che è stata veramente poi apprezzata dall'alta visitazione di questi tre giorni. Chiuderei dicendo che è vero ed è reale oggi, si può avere l'emozionalità anche con la sostenibilità. Abbiamo una grande ricerca e ci vediamo molto prossimamente.